Signor Roberto Cerudi, le dovrei dire una cosa, mi può ascoltare? Ascolto, sono tutto orecchie. Cioè, ma tu sei stato tre quarti d'ora a farmi aspettare per preparare sta roba. A voglia! Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentornate qui su Due Pazzi per i Lego, sto ancora ridendo perché... Aspetta, aspetta, devo preparare una cosa a dieci minuti e poi vabbè. A me le va gli occhiali, se no ce l'ho riflesso nei ring e lui sarà abbia. Sì, per forza, più o meno. Sì, più o meno siamo lì. Signori, bentornati e bentornate prima di parlare di quello che avete già capito, anche perché c'è la miniatura dell'anteprima del video, insomma. L'argomento si capisce, io voglio come sempre invitarvi a fare un giro qua dal signor Big Manu, un negozio fisico ma soprattutto online che vi dà la possibilità, grazie al nostro codice sconto che trovate in descrizione, di avere un buono sconto, infatti. E anche perché sta settimana, Jody, qual è la specialità della casa di Big Manu? Questa settimana? La crostata al lampone. La crostata al lampone. Bravo, signor Big Manu. Andate, fateci un giro. Io ho capito perché è partita sta storia dei dessert, però mi sa che ormai la gente andrà lì. Sai che figata se facciamo partire un thread della gente che parte... Il budito, il budito al cioccolato. Oltre che andare a fare un giro da Big Manu, iscrivetevi a tutti i nostri canali social, non ve ne pentirete e soprattutto non vi farà male, anche perché sappiamo... No, anche perché abbiamo istituito anche la politica soddisfatti o rimborsati. Esatto, esatto. Se non siete soddisfatti dei nostri contenuti, sarete rimborsati. Quindi paghiamo quello che avete speso per... Iscrivervi. Esatto. Esatto. C'è niente, perché è gratis. Vabbè, vabbè, non dirlo. Ragazzi, detto tutto ciò, andiamo qua perché oggi vogliamo parlarvi di gatti. No, non è vero. Cioè, perché tu stai per dire a tutti quanti che presto io avrò un nuovo ospite in casa, qui in casa Jody. No, però la cosa... Sarà bellissimo, magari, quando vedrai dietro... Allora, ragazzi, stop, stop, stop. Una cosa seria, se vedete questo video probabilmente entro metà giugno, partecipate al grande contest, trova un nome al gatto di Jody. Vi posso dire solo che sarà un gatto rosso, che sta in spezzamento in questo momento e mi arriverà fra... Garfield! No, non mi piace Garfield. Comunque scrivete qui nei commenti, scrivete nei commenti il nome del gatto di Jody. Se uno mi dirà un nome che mi piace, ok, vincerà un mattoncino facebrick. Non sto scherzando, cioè, glielo mando davvero. Se mi trovate il nome... Io me lo voglio trovare da solo, onestamente, eccetera, perché adesso sta vincendo Mochi. Per adesso. Mochi. Che è il gatto di Big Hero 6. Ragazzi, trovate un nome, vi prego, perché Mochi non si può sentire. Trovategli un nome, vi prego. Detto questo... Lanciate il contest e trova un nome al gatto di Jody. Perché abbiamo un gatto qua? Spiego io e poi passo la palla a te. Perché nel 2022, in un set dei pompieri, esce un tile con questo, diciamo, annuncio di aiuto. Abbiamo perso il gattino, ok? Vedete lì, missing, perso, scomparso. Sei mesi dopo, casualmente, in un set della City, esce un altro tile con scritto, appunto, vedete, found, quindi ritrovato. E casualmente, proprio una mold nuova, un gattino, viene prodotto. Ok? Attenzione. Questa cosa qui, ricordatevela. Perché, Jody, noi partiamo da sta cosa? Perché nel set del Ninjago City Market, che uscirà, vi ricordo, penso a luglio, se non ricordo male, comunque a breve, o a giugno a luglio. Non puoi dire così, mi ricordo, boh, forse, uscirà, questo è sicuro, uscirà, nel set che uscirà. E sono uscite le review, l'abbiamo fatta vedere pure noi, la review l'ho fatta vedere pure io. E praticamente c'è un tile interessante, signor Roberto Ceruti. Perché? Questo? Perché, ok, questo non è un tile stampato, è un tile adesivato, ma quella scritta è nell'alfabeto dei Ninjago, e vuol dire... Iacnugionos, Iacnugionos, vuol dire scomparso. Missing, esatto. Che cosa? E quindi, se tanto mi da tanto, è scomparsa la capretta, signor Roberto Ceruti, quella che ti faceva già... Ecco, eccola, ecco per questo intro, ecco perché, perché... Vabbè, ma chi se ne frega della capretta, Gio, diciamo, noi stiamo facendo un video su una capretta. No, signor Roberto Ceruti, perché lei deve sapere, così come i nostri appassionati, che la capretta è attualmente l'ildorato degli animali per gli appassionati Lego. Perché, signor Roberto Ceruti? Lei lo sa spiegare? Io lo so, però devo far finta che non lo so, dai, dai. Allora, questa capretta è uscita in due esemplari soltanto, nel set 7189 Mill Village Raid, ok? Che è un set, se non sbaglio, del 2013... 2012, scusate. 2000... sì, mi sembra... Vabbè, sto andando a memoria, eh, quindi... Sì, fai niente. Ok, e praticamente... Sì, no, 2011, forse, vabbè. Comunque, eccolo qua, questo è il set, e non è mai più uscita. Il problema qual è? Il problema è che questa capretta, quando uscì, andò su Bricklin, anche sui 3-4 euro. E la gente... Certo, anche perché, anche perché, perdonami Jody, all'interno, come diceva Jody, due esemplari, non perché erano due set diversi, perché ce n'erano due in un unico set. All'interno di questo ce ne sono due. Quindi, insomma, il set esce, ci sono due animali, prezzo normale. Sì, 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 anche perché questo set, che oggi costerebbe 100 euro sicuro, all'epoca costava 70 euro, questo set qui che vedete, ok? Bene, adesso vi posso dire che la capretta nuova vale più di tutto il set. Non sto scherzando. Assolutamente sì. Una singola capretta, venduta oggi, vale più di tutto il Mill Village Raider, di tutto il 71-89. Questa cosa è alluminante, se ci pensate. Però, Lego non l'ha mai più rifatta. Mai più rifatta. Esatto. Andiamo a vedere, Jody, perché io ho preparato anche una slide. Qui vediamo i prezzi attuali della capretta. Una. Quindi, sapete che ci sono due suddivisioni. Quello che è il valore su quello che è stato venduto, e invece quello che è reale. Reale, sì. È vero. Sul venduto magari c'è anche quella un po' rovinata, un po' strisciata. Esatto, esatto. Quindi bisogna dirlo un po' su il prezzo. Non è tenuta bene, quindi, però come riferimento è il più corretto, secondo noi. E poi c'è quella su un proposto, che è la parte destra. Cosa vuol dire? Quello che può essere un prezzo anche inventato completamente, perché non ha una metrica di vendita, sostanzialmente. Esatto, esatto. Perché uno può comunque proporre la sua vendita a 800 euro. E questo 800 euro va nel calderone della media. Ok? Nessuno mai la comprerà a 800 euro. Però, ecco, queste due suddivisioni. Se voi le guardate, se lo vedete, e magari lo guardate al cellulare, ve lo dico io cosa c'è scritto. Negli ultimi sei mesi è stata venduta ad un prezzo medio di 70 e passa euro. Mentre ad oggi è proposta ad un prezzo medio di quasi 100 euro. Ragazzi, 100 euro una capretta. Ma signor Roberto Ceruti, scusi tanto, lei mi sta dicendo che una capretta costa 70 euro. E quindi, io che sono abbastanza spedito in matematica per via delle mie due lauree, come avevamo detto quella... Lei, l'altro giorno, ha fatto la review del Pac-Man, che costava 270 euro. Sì. Quindi mi sta dicendo che queste quattro caprette che sto mostrando qua in video... No, aspetta, aspetta. Aspetta. Cioè, no. Quante sono? Uno, due, tre, quattro. Queste sono le mie quattro caprette, perché io ho comprato due set 71-89 all'epoca, quando è uscito. Anzi, in realtà ne ho comprati molti di più, però poi le caprette e l'amico che te ne chiede una, eccetera. Cioè, che fanno gliela dare? Grazie che mi hai regalato una capretta. Grazie, grazie. Mai vista una. Signor Roberto Ceruti, cosa le devo dire? Purtroppo, io... Allora, due sono del mio set 71-89 e due sono per le MOC di queste. Quindi, insomma... Però, qual è il discorso? Secondo lei, signor Roberto Ceruti, questi prezzi continuano ad essere così alti? Beh, io lo venderei subito, quelle lì, domani. Perché se veramente fra sei mesi escono le caprette, ovviamente da 100 euro l'una vanno giù subito a 20, poi 10, poi 5. E invece, signor Roberto Ceruti, io la stupisco e le dico che non le vendo perché queste fanno parte della mia collezione privata e come lei ben sa, tutto ciò che per me è privato, non lo vendo neanche, è morto. Questa è una cosa che molta gente non capisce. Dice, ma come Giordi? Cioè, anche metti conto, invece che vendere a 100 euro l'una, se io queste le metto 4 a 50 euro, stasera sono vendute. Stasera sono vendute tutte. E a me mi entrano 200 euro in tasca, così, eh. Io questi, cioè, vabbè. Però non lo farò mai, perché queste sono le mie caprette. Cioè, che senso c'ha? I soldi, ragazzi, sono volati, i soldi se li fanno. Le caprette sono per sempre. Mettete... Una capretta è per sempre, ragazzi. Però spieghiamo la cosa ai nostri amici ascoltatrici. Perché? Perché 99% se l'Ego rifà la capretta, non la fa con la stessa... Uguale, uguale, uguale. Certo, perché loro dicono, faccio una piccola divagazione, Jody. Vai, stivate. Ho letto... No, ho letto un articolo su Brick It Magazine, andate a farci un giro sul sito. Assolutamente, ragazzi. Giustamente, dicevano, il tentativo di ributtare la capretta sul mercato c'è stato negli anni, soprattutto dai set ideas, ok? Sì. Dove, nella Medieval Blacksmith, la MOC originale aveva la capretta. Però l'Ego non l'ha fatta. E quando gli hanno chiesto perché non avete messo la capretta, loro gli hanno risposto, bah, in questo set no, però da qualche parte nei magazzini di Lego lo stampo ci dovrebbe ancora essere. Quindi, signori, lo stampo c'è e potranno utilizzarlo. Come diceva Jody, però, attenzione, perché è molto, molto probabile, direi quasi sicuro, che la colorazione le facciano diverse. E per le persone che ci hanno chiesto come potrebbe, cioè dove potrebbe essere sta capretta, ci sono, diciamo, diverse possibilità. Ve le illustro. Sui monti! Allora, ve le illustro che, no, 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 ci sono queste potenzialità. Allora, c'è gente... Allora, non so se avete visto che abbiamo fatto un video con dei set ipotetici che erano stati proposti a un tizio che doveva dargli un prezzo, vi ricordate? Certo, certo. In quei set c'era un rifacimento del 1093 Medieval Market Village, in cui c'era effettivamente la capretta. Quello, per i leak che stanno girando, dovrebbe essere, attenzione, attenzione, il set principale in cui potrebbe essere. In cui sperare di rivedere la capretta. Perché Lego ha visto che comunque le vendite del castello da 400 euro, il 10305, non sono andate malissimo. Esatto, direi molto bene, ma è malissimo. Esatto, e quello sarebbe una... Cioè, chi si è comprato quel castello può comprarsi il villaggio medievale, da mettere vicino al castello e continuare praticamente questa cosa. Se lego a occhi chiusi. Ovviamente. E a quello che mi sembra di aver capito, potrebbe diventare un tema ricorrente di Lego. Cioè fare un grosso set del castello tutti gli anni. Che così, diciamo, farebbe contenti tutti gli appassionati del castle. E risolverebbe un problema. Cioè non dovrebbero lego fare un nuovo tema castello. Perché tutti gli appassionati del castello, se compri un set l'hanno da sbariati euro, sborantamila euro. E c'hanno quello. Altre possibilità sono, lego dovrà far vedere i set autunnali, invernali, della city. Sapete benissimo che lego sta fraccando con gli animali. Questo giro, per esempio, abbiamo visto ad agosto, va con, di nuovo, la fauna ittica. Quindi ha messo la foca, l'orca. La tartaruga marina grande. La tartaruga grande. Gli orsetti bianchi. Sì, sì, sì. Roba bella, bella, bella. Quindi, potrebbe lego a questo punto, come ha tirato fuori la pecora e cavoli vari. Sì, ha rifatto quando è uscito il set nuovo della fattoria, un annetto fa. L'anno scorso. Scusi, signor Roberto Ceruni, lei ha detto la fattoria? Sì, quello, sì. Io ho sempre tutto. Ma scusa, ma io... Allora, ma cosa c'hai lì dietro? Cioè, ma no... Eh, sai la borsa di Mary Poppins che tira fuori e c'è il mondo? Cioè, ma quanti spazi infiniti c'hai? No, no, le spiego, le spiego. Io qui ho un pin del dimensionale, non so se si vede. Sì, mettilo più in alto quel coso che ti si riflette negli occhiali. Guardi, guardi, signor Roberto Ceruni, come sono bello. Oppure, guardi, signor Roberto Ceruni, come sono angelico. No, così è troppo, dai. Cioè, così è veramente da sborone, né? Cioè, fino a lì. No, vabbè, comunque c'è un tunnel dimensionale qui che io metto la roba e lei mi dice, per esempio, guardi, io vorrei, che ne so, un pirata degli anni... e io le tiro fuori un pirata, capisce lei, signor Roberto Ceruni, eh, così. Ci vediamo al prossimo video, ciao. 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 Grazie per la visione!